Buongiorno i tatubers! Io spero davvero che non abbia fatto troppo un disastro perché era veramente terrorizzata. Cercate di capire, parlare davanti a una telecamera è molto diverso che parlare davanti a tutti voi. Dato che per via dell'ansia si sarà dimenticata di dire tipo tutto, riassumiamo. Shanti, 24 anni, svizzera, ma originaria di Narnia. Corvo d'oro, divergente, tributo e molte altre cose. Ma che cosa fa questa povera ragazza nel suo canale? Comunica probabilmente troppo spesso con i suoi animali, di peluche non. Oh buongiorno a tutti! Ciao a tutti! Si diverte un sacco a truccarsi anche se non è esattamente il migliore dei suoi talenti. E metto la cipra più scura che ho, che è tutto a dire in effetti. Non sa nemmeno cantare, eppure lo fa molto spesso. Sometimes only takes is one voice. Ma sto qui, non andrò più via. Sono sola ormai. Cipra 2 casa mia. Respira e vive unicamente grazie a libri, film e telefilm. Soprattutto telefilm. Si considera una fangirl professionista. Il nostro amore resterà platonico. Scusate, lo so che è una cosa da fangirl quindicenne esaltarsi così per le coppie gay, però c'è... C'è, c'è, c'è... John Locke. E quindi a questa fesa di volersi trasformare nei suoi personaggi preferiti. I wanna make the best of what is left all the time. Perché incontrarli ovviamente non era abbastanza. We found love in a hopeless place. Uno degli argomenti che si diverte di più a trattare è il mondo LGBT. Perché d'accordo Woody Allen dice che se sei bisessuale hai il doppio delle chance il sabato sera. Però c'è anche l'altro lato della medaglia, comunque. Questo significa un sacco di situazioni imbarazzanti. Shanti, ma c'è l'hai il ragazzo? Stasera andiamo a cacciare i maschioni? Ok. O insomma, sbandierare la sua vita privata in generale. Ecco. Vorrei mica aggiungere le foto di tutte le persone di cui parlo, ma non posso. C'è da aggiungere che questa cosa di parlare da solo davanti a una telecamera deve aver peggiorato le sue già precarie condizioni mentali. Riflitevo prima. E a tutti voi, da me, da questa meravigliosa patata dolce. Dovrei tipo restare così per tutto il video, così vedete le mie espressioni molto meglio. Ma nonostante tutto, a volte riesci anche ad essere seria. Pure in video dove si mette in contatto con la secondager. È vero, sei strana. E particolare. E speciale. Ma questo diventerà il tuo punto di forza. Oppure quando parla di sviluppo personale. Perché alla fine non è mai l'obiettivo in sé verso cui noi andiamo, ma verso la sensazione che ci farà provare. Lui suggerisce, e ve lo consiglio anch'io, di smettere di sperare. E questo è quanto. Un buon weekend a tutti!